Ciao a tutti, dovremmo essere in live, fatemi sapere, io chiudo un po' di roba perché sennò come al solito non funziona più niente, sta già scattando tutto, usciamo da telegram, ok, allora, 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 oggi torniamo su Dipenscienza, una puntata un po' tranquilla, una puntata di ragionamento, ragionamenti che ho fatto durante questa pausa, poi in puntata vi spiegherò anche il perché della pausa e quali sono state sia le motivazioni sia i frutti di questa pausa. Scusatemi se non vi do molta attenzione ma sto cercando di scrivere su telegram che siamo in live, siamo live, vediamo se ci raggiunge qualcuno, ha perso il gruppo VIP, eccolo qua, non fate caso ai miei cappelli o ripilanti, sono in una condizione tragica, una condizione tragica dovuta sia al fatto che oggi la mia ragazza ha deciso di riarredare tutta casa, quindi sono stanco morto, sudato e stravolto, e poi anche per le mie condizioni mentali che come sempre fanno acqua. Oh, Bebbo arriva per primo su la live di Twitch, grazie, ciao Bebbo, bentornato, ciao Edward, come sono andate le vacanze? Edward Bastardo ci ha mandato foto di cibo ininterrottamente per tutte le sue ferie, maledetto, ci ha fatto venire una fame incredibile, aspettate che tolgo l'anteprima così intanto non mi vedo più, così ne beneficia il mio sguardo e poi dovrebbe andare un po' meglio, sì, Edward sicuramente le vacanze sono andate bene, scommetto che hai preso 10 kg, anzi te lo auguro, guarda, con un po' di cattiveria, e io ne ho presi un paio, devo dire, sono stato bravo però quest'anno di solito ne prendo molti di più, adesso però da mercoledì domani ricominciamo un po' la solita routine, torniamo a fare calisthenics e torniamo a spaccare i culi e torniamo soprattutto a perdere peso, mi sono andato veramente alla pazza gioia. Anche tu comunque in calabria non è andata male? Eh sì, non è andata male, infatti dicevo che ho preso 70 kg e ho mangiato l'immangiabile, ho bevuto l'imbevibile, tra l'altro vi ho mandato sul gruppo VIP un amaro che è stata una scoperta veramente devastante e quindi ve lo porteremo, vedremo anche di chiedere uno sponsor, non mi ricordo come si chiama, cavolo, adesso mi sfugge, comunque poi ve lo dirò, buonissimo, e ne ho bevuto veramente tanto. Allora, 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 oggi facciamo un po' di ragionamenti su Deepen Scienza, anzi vi dico tutto in live, vi dico tutto in live così non facciamo doppioni. Una cosa importante che volevo dirvi è che abbiamo iniziato a postare le repliche di Deepen, sia Deepen Crimini, Scienza, tutto quanto, su YouTube, quindi se non siete ancora iscritti e avete voglia di darci una mano, potete andare a iscrivervi sul nostro canale YouTube dove trovate le repliche delle live Twitch, al momento non sono tagliate, ho in piano di, insomma, trovare qualcuno che ci dia una mano da quel punto di vista, però per adesso sono così e ce le facciamo andare bene, però visto che YouTube sta salendo piano piano e se riusciamo ad arrivare a mille iscritti, insomma, la cosa ci aiuta, anche perché poi potremmo pensare di farle live su YouTube un domani e per farlo abbiamo necessità che ci siano un tot di iscritti, insomma, se avete voglia dateci una mano anche lì. E poi, cos'altro vi devo dire? Niente, non vi dico niente perché ne parliamo in live su Spreaker, anche perché oggi sarà una puntata molto chiacchierata, insomma, mi sono scritto, durante le vacanze mi sono fatto degli appunti, quindi se mi vedete oggi un po' leggere è perché mi sono fatto proprio, cioè, quando mi veniva il pensiero in mente lo buttavo giù e quindi vi leggerò qualcosa dei miei pensieri, una sorta di diario della mente di Zap, non che sia, diciamo, che il mondo ne avesse bisogno, però questo è il mio podcast e lo decido io, quindi così funziona. Allora, è tutto pronto, il telefono è in silenzioso e noi andiamo live. Benvenuti in questa nuova puntata di D-Pen, io sono Zap, oggi siamo su D-Pen Scienza, siamo come sempre in live sia su Twitch sia su Spreaker, quindi accorrete numerosi, se volete vedere il mio bel faccione sudaticcio lo potete vedere su Twitch, dove vi ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente, ci dà una grande mano e se invece volete solo ascoltare la mia suave voce potete rimanere su Spreaker, mentre se ascolterete questa puntata in futuro potrete ascoltarla sia su Apple Podcast che su Spotify, Google Podcast, eccetera, 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 quindi su tutte le principali piattaforme di streaming. Oggi prima puntata della nuova stagione di D-Pen Scienza, non credo che farà una nuova stagione, diciamo, tecnicamente su Spotify, eccetera, ma proseguiremo sulla stagione 1, perché non so quali siano le conseguenze di questa cosa, quindi preferisco mantenermi sulla stagione 1, anche se, insomma, poi deciderò. Oggi straparlo, parlo a vambera, va bene. È stata una lunga attesa quella che ci ha diviso dall'ultima puntata, scrivetemi nei commenti quanto vi sono mancato, scommetto tanto, una lunga attesa perché sostanzialmente avevo bisogno di una pausa, una pausa da D-Pen Scienza, una pausa dal podcast, infatti sono stato anche un po' assente sul gruppo, mi scuso per questo, ma avevo proprio bisogno di risettare la mente e ripartire da zero perché sono arrivato alla fine dell'anno solare scorso, diciamo, con giugno-luglio, in totale burnout, sia da studio, sia dal podcast, che mi sta dando tante soddisfazioni, me ne date tante anche durante la pausa, ma mi sembrava di aver perso un po' il senso, cioè il motivo per il quale lo stessi facendo, e quindi ho voluto prendermi una pausa, tanto, comunque, come sapete, D-Pen Scienza, diciamo che in generale D-Pen non si regge sulle statistiche assolutamente di D-Pen Scienza, quindi palla è andata avanti, sta andando come un treno, D-Pen Crimini sta veramente volando e ne sono veramente tanto felice, anche perché questo ci dà la possibilità di fare dei progetti a lungo termine, di pensare magari a nuovi format e di avere anche, diciamo, anche la possibilità, perché no, economica, di poter migliorare la nostra attrezzatura, cosa che ovviamente solo con D-Pen Scienza non sarebbe stato possibile, quindi di questo siamo assolutamente felicissimi. Avevo però bisogno appunto della pausa, sono arrivato all'ultima puntata di D-Pen Scienza che non ne avevo più. Tra l'altro, scusatemi, faccio una piccola parentesi alla palla, ho notato che nelle ultime puntate di D-Pen Scienza, causa computer ovviamente, ci sono dei, insomma, l'audio un po' rovinato in alcuni punti, si accelera e quindi non si capisce bene quello che dico. Spero che non succeda anche oggi, ho chiuso tutto nel computer, sperando che tutto funzioni al meglio, e non è colpa mia, purtroppo non ci posso fare niente. A breve, comunque, se riesco a trovare un computer, visto che sembra che internet abbia acquistato tutti i computer del mondo nell'ultimo anno, compreremo appunto il secondo computer per poter fare anche D-Pen Scienza con palla, insomma, risolveremo la cosa al più presto, non me ne vogliate, comunque, di solito dura pochi secondi questo problema, non è che in quei secondi vi dimostro l'esistenza di Dio, quindi, insomma, fatevene un po' una ragione, adesso sistemeremo tutto, sistemeremo tutto. Dicevo, avevo bisogno di una pausa, pausa dovuta al fatto che, principalmente all'università, oggi chiacchieriamo un po', eh, non sarà una vera e propria puntata di oh, grazie Eduard per l'abbonamento, grazie mille, appunto calza a pennello con quello che stavo dicendo prima, se volete abbonarvi, vi ricordo, venite su Twitch, c'è una guida su YouTube per capire come si fa l'abbonamento gratuito. Università che mi ha devastato, nel senso che da giugno scorso non mi ero mai fermato, ho dato esami a rotta di collo e stavo andando bene, stavo correndo con un pazzo e purtroppo, come i VIP sapranno, ho trovato un muro contro il quale ho spiaccicato la mia faccia e un esame veramente tosto, composto da cinque esami diversi, con tantissimi crediti, un sacco di roba da studiare, insomma, mi ha veramente bloccato e sia proprio, in parole povere, mi ha fatto saltare una sessione d'esami, quindi anche tutto il mio piano di previsione della laurea e quindi questo mi ha dato una grande mazzata sul coppino e al mio umore e poi comunque appunto mi ha fatto perdere del tempo, mi ha fatto perdere voglia di fare e quindi avevo bisogno di prendermi una pausa da questa cosa e, insomma, con questo mesetto me la sono un po' presa, anche se ovviamente non ho smesso di studiare perché ho l'obiettivo di laurearmi a breve anche per Dipenscienza, perché per dare credibilità a questo podcast e per portare sempre dei nuovi contenuti e poi per andare avanti chiaramente con la mia vita dato che la povertà non fa per me e quindi gradirei ricevere uno stipendio a un certo punto e poter applicare quello che studio. Ma a parte queste mie menate avevo, insomma, perso anche la voglia di fare Dipenscienza perché questa situazione anche universitaria mi aveva un po' spossato poi quest'anno mi sono trasferito, insomma, al trasloco ero proprio stanco, ero stanco all'ennesima potenza e soprattutto avevo perso, come dire, il focus su quello che stavo facendo con Dipenscienza cioè continuavo a fare puntate che sì, mi piace fare Dipenscienza, mi diverte, non è un grosso peso per me farlo anzi, è una buona distrazione dalla mia routine quotidiana di studio e di non vedere persone quindi anche parlare con voi mi aiuta in questo nel senso che io sono a casa a studiare tutto il giorno la mia ragazza lavora e quindi per me è anche uno sfogo poter parlare al microfono e quindi mi piace, continuerò a farlo assolutamente però mi ero trovato in quella sensazione di dire ma Andre, cosa stai facendo? cioè, qual è il motivo per il quale stai facendo Dipenscienza? anche perché, insomma, i motivi possibili sono tanti cioè, puoi farlo perché, che non so, per il computer per comprare il computer se non esiste Dipen non esiste neanche il computer la necessità del computer quindi sicuramente il nostro interesse non è lì nel senso che il mio scassone di MacBook Air che fatica ad andare avanti ad arrancare in questo momento è più che sufficiente per le necessità che ho per i motivi di studio e quindi, insomma, non è il soldo che cerchiamo non è l'attrezzatura non è la webcam figa non è lo stage dietro piuttosto che o il super microfono insomma, tutto questo è una necessità che viene di pari passo col podcast per portarvi una qualità migliore e quindi per poter dare una, appunto, in generale una migliore qualità al podcast che passa per forza di cose anche dall'attrezzatura e quindi tant'è l'altro motivo che un po' poteva spingermi magari era trovare nuovi clienti quando sarò laureato e chissà avrò uno studio sì, può essere una motivazione per me farlo ma non è questa gran motivazione nel senso che insomma, non è che vi devo dire io che i medici guadagnano a sufficienza per vivere molto bene ecco, stavo guardando qualche giorno fa un divulgatore scientifico, uno psichiatra che appunto parla proprio di questo ci sono pochi medici che fanno attività di questo genere perché banalmente non ne hanno bisogno perché lo stipendio è più che sufficiente anzi, a volte è anche molto grande quindi avere questo impegno in più insomma, la motivazione deve essere un'altra non può essere il soldo non può essere la ricerca della clientela che in molti casi non è necessaria neanche quindi diciamo che ho ragionato un po' durante questo mesetto di stop anche a questo a cosa voglio fare con Dipenscienza qual è l'obiettivo e adesso nel corso della puntata vi dirò quali sono i miei ragionamenti questa pausa, questo stop mi è servito soprattutto a rivedere anche di per sé Dipenscienza come format nel senso che ci sono tante mi sono reso conto che riascontandomi ovviamente che ci sono tante piccole cose di Dipenscienza che non mi piacciono che vorrei migliorare e chiaramente dipendono tutte da me nel senso sono io da solo con la mia voce che parlo del pubblico e se le puntate non fanno 10.000 ascolti non è colpa dello Stato ladro ma è colpa mia nel senso che sicuramente devo migliorare tanti aspetti della mia comunicazione devo riuscire a migliorare la mia capacità di come dire, sì sempre di comunicazione una capacità di creare un legame con chi mi ascolta e cercare di far capire meglio ciò che voglio comunicare e quindi devo in questo senso avere molto chiaro quello che voglio comunicare e quindi questa pausa è servita anche a questo a valutare quali sono gli aspetti tecnici sostanzialmente di Deepen che non mi stanno piacendo e che voglio migliorare e su questo diciamo che mi impegnerò nelle prossime puntate sicuramente a portare avanti questo mio percorso di comunicatore perché, piccolo spoiler, appunto l'obiettivo di Deepen Scienza deve essere assolutamente la comunicazione della scienza appunto come, diciamo, il nome stesso palesa Deepen Scienza deve essere uno strumento per il quale una persona interessata magari per passione al mondo della scienza può trovare delle informazioni perché no farsi anche una risata ogni tanto quando si spara la vaccata deve essere però secondo me anche uno strumento per chi vuole conoscere magari meglio una malattia perché magari ce l'ha in famiglia perché magari è impaurito e perché magari deve fare delle domande al proprio medico per capire quali sono le problematiche relative a questa malattia ma non avendo nessun tipo di informazione sulla stessa viene anche difficile porre le domande giuste, no? Le domande e i dubbi vengono se qualcosa diciamo un po' la si conosce e questo è sostanzialmente l'obiettivo di Deepen Scienza detto questo ho passato appunto diciamo il pre-vacanza a sognare una vacanza appunto dove non pensavo a assolutamente nulla così non è successo ovviamente nel senso che mi sono un po' riposato sicuramente ma ho passato l'intera vacanza a litigare sul vaccino per il covid-19 è stata una vacanza stressante da questo punto di vista devo dire ma utile perché mi ha aiutato a fare i ragionamenti che vi ho detto prima e soprattutto mi ha aiutato a pensare a questa puntata che secondo me è sì un po' frivola è sì un po' priva di scienza diciamo in senso lato ma che può essere molto utile perché secondo me è molto attuale oggi infatti ho intitolato la puntata le regole del gioco perché in questo momento c'è sostanzialmente una guerra tra vaccinati e non vaccinati questi due schieramenti che ormai quasi si odiano e che penso sia la cosa più sbagliata del mondo che questo avvenga e quindi oggi cerchiamo di tirare le fila e cerchiamo di diciamo rimettere i pezzi al loro posto per ricominciare e instaurare una comunicazione che sia efficace per il raggiungimento del nostro obiettivo ovvero la libertà dal covid sostanzialmente quindi ho passato questo mese a litigare come un forsennato e questi litigi solitamente hanno sempre lo stesso andamento nel senso che ad un certo punto la situazione si scalda partono gli insulti e sostanzialmente la comunicazione lì è terminata può durare per altre ore ore e ore ma non ci sarà mai un succo del discorso non ci sarà mai un obiettivo finale del discorso e soprattutto non ci sarà mai una motivazione neanche per concluderlo nel senso che non ci sarà nessun tipo di beneficio nel fare una discussione del genere e quindi oggi ho diciamo ho isolato nel corso di questo mesetto quali sono secondo me le regole per poter parlare in modo costruttivo del vaccino del covid tra due persone una che crede appunto nel vaccino anche se come detto nelle scorse puntate nella scienza non si crede la scienza è ma questo fa parte questa frase supponente fa parte di un altro punto e dopo capirete perché parlo di supponenza e un'altra persona invece che non è d'accordo con il fare il vaccino e vi preannuncio che non si parlerà assolutamente di green pass perché come ribadito già in altra puntata quella non è scienza quella è politica quindi potete non essere d'accordo con il vaccino cioè con il green pass ne sono totalmente conscio e soprattutto non ho nessun come dire nessuna metodica scientifica per contraddirvi perché non è scienza ribadisco non stiamo parlando di qualcosa che può essere contraddetto in maniera scientifica quindi non lo farò sono idee politiche dal quale mi tengo ben lontano mentre per il vaccino è un po' meno corretto non essere d'accordo perché è vero insomma ci sono delle motivazioni per il quale oggi le persone hanno paura di fare il vaccino le vedremo un po' in questa puntata probabilmente le vedremo anche nella prossima infatti questo sarà un insomma oggi ci scaldiamo un po' per la puntata di settimana prossima che sarà un smentiamo tutte le più grosse bufale sul vaccino del covid-19 sarà ovviamente legato a questa puntata e quindi alla fine capirete che ci sarà un fil rouge che le collega bevo un sorso d'acqua e proseguiamo la puntata nel frattempo mandatemi un massaggio su Spreaker se ci siete fatemi vedere che ci siete e fatemi sapere se c'è qualcuno su Twitch e soprattutto se non si è bloccato tutto perché qua sapete che è sempre un terno all'otto quindi vi ho parlato della mia epifania vi ho parlato del fatto che mi sono chiesto quale fosse l'obiettivo di ripenscienza e che ora ce l'ho chiaro in mente sostanzialmente l'obiettivo di ripenscienza è sì fare buona comunicazione ma in questo momento specifico l'obiettivo di ripenscienza è anche quello di oh ciao Venu sei carico stai facendo le valigie questo è un sottobosco che magari vi racconterò più avanti quindi oggi l'obiettivo non è fare divulgazione a casaccio ma il problema del momento è parlare del covid-19 e del vaccino del covid-19 non perché a questo porti più ascolti o perché io ci tenga particolarmente a parlarne ma perché è utile in questo momento e l'obiettivo di questa puntata non è tanto convincere qualcuno quanto sto facendo la spesa hai visto lo sapevo sono già carico te lo dico sono già carico quindi l'obiettivo non è riuscire poi a convincere il nostro interlocutore che noi abbiamo ragione che quindi che il vaccino va fatto assolutamente che l'altra persona è un cretino perché così molto spesso purtroppo non è purtroppo o per fortuna ma perché ogni volta che sostanzialmente qualcuno ascolterà questa puntata o una futura puntata di Dipenscienza e riuscirà a capire qualcosa in più a proposito di quello di cui si sta tanto parlando in questo periodo e che purtroppo molti non conoscono e magari si convincerà a fare il vaccino allora quello sarà un successo dal mio punto di vista non sono un successo per me ma ciao Alessio ben arrivato ma un successo anche per voi nel senso che questa può essere una come dire uno strumento anche per voi che mi state ascoltando nel senso che come a me è successo che di passare settimane intere a discutere sul vaccino del covid scommetto che sarà successo anche a voi di avere una discussione del genere e ne sono certo perché ve l'ho chiesto su telegram e e quindi perché non creare una guida diciamo per la comunicazione di questo di questo messaggio che deve essere un obiettivo comune a questo punto quindi è vero che ogni puntata dico che questa sarà l'ultima puntata sul covid perché sono stufo non ne ho più oggi non ve lo dico perché non è vero ci saranno altre puntate sul covid e ce ne saranno finché non avremo dipanato la matassa quindi presa coscienza del fatto che dipenscienza deve essere uno strumento per me e per voi di divulgare la scienza e di vincere diciamo faccio delle virgolette in aria questo tipo di discussioni che hanno un obiettivo ovvero quello di salvare un'altra persona so che adesso sembra che il covid sia la peste però effettivamente c'è che ci resta secco anche se qualcuno si ostina a dire di no quindi avendo questo obiettivo bene in mente dobbiamo pensare a come fare cioè come faccio la comunicazione come faccio a convincere qualcuno che non sono io che ho il paraocchi ma magari che neanche lui ha il paraocchi ma che il vaccino è comunque la cosa migliore che abbiamo al momento il fatto è che molto spesso quando partiamo con questa discussione abbiamo due persone una di fronte all'altra che non parlano la stessa lingua quindi come faccio a far partire un discorso e a avere delle basi in comune se queste basi vacillano cioè se la sioma di partenza ovvero la scienza viene anche messa in discussione è un po' come discutere con i terapiattisti cioè se tu perdi la fiducia nella scienza anche se come detto nella scienza non bisogna avere fiducia perché la scienza è cioè non c'è non c'è una fede nella scienza come detto in altre puntate se anche quel punto di partenza si perde allora come facciamo a creare una discussione costruttiva cioè se quando ti dico che le statistiche parlano chiaro e che il covid non ha una mortalità paragonabile a quella dell'influenza e la tua risposta è non è vero cioè di cosa stiamo parlando come faccio a convincerti se davanti alla statistica messa nero su bianco mi dice che non credi alla statistica perché l'hanno fatti poteri forti capisci che non ci può essere una comunicazione ed è generalmente lì che partono gli insulti ma sei un cretino allora sei un deficiente e lì degenera quella discussione avrà valore zero quindi non potendo creare un contatto un punto di partenza in questa discussione molto spesso si cercano vie alterne quindi cerchiamo di cambiare strada e parliamo magari delle bufale del vaccino solitamente le discussioni vanno così si inizia a parlare delle bufale uno ne spara una grossissima l'altro dice ma non è vero l'altro ancora dice no non è vero e la discussione va avanti così all'infinito senza mai portare assolutamente a nulla anche qui quando ti spiego nel dettaglio che sostanzialmente il vaccino non può creare delle mutazioni genetiche perché ci manca l'enzima in grado di farlo che alcuni virus hanno e che l'uomo non ha e tu mi dici dopo 20 minuti di discussione dove ti spiego la biologia dove ti spiego la biochimica dove ti spiego la genetica e tu mi dici sì vabbè tanto vedrai che non è così anche lì non c'è un punto d'appoggio cioè non c'è la partenza per mettere in piedi una discussione e quella che proseguirà in quel senso non sarà una discussione semplicemente sarà un urlarsi contro e entrambe le parti e in questo mi ci metto anch'io non è che io sia demiurgo che controlla gli altri e quello che sa la verità assoluta mentre gli altri non sanno niente io mi sono in questo mese e anche prima in realtà spesso trovato nei panni di una delle due parti e avere le orecchie tappate sia da una parte che dall'altra secondo me è la cosa più sbagliata nel mondo nel senso che non ci porterà assolutamente a nulla magari conosco persone che hanno litigato veramente amici che non si parlano più per queste cose e non ha veramente nessun tipo di senso quindi abbandoniamo questa cosa dei due schieramenti perché non ci sta portando da nessuna parte quindi a questo punto mi trovo nella condizione di non poter più instaurare questa comunicazione è stato un mese quindi difficoltoso mi immaginate ovviamente tutti i miei interlocutori hanno amici e parenti perché non è che al mare ho incontrato persone con cui discutere al supermercato fortunatamente quindi è stato veramente un mese difficile e mi sono chiesto quali siano le regole per poter sconfiggere questa situazione dato che sembra quasi senza via di uscita cioè una volta che dichiaro che non possiamo comunicare perché non abbiamo la stessa lingua a quel punto ti verrebbe da gettare la spugna e invece no invece no non si getta la spugna perché di penscienza anche questo e questo è il motivo per cui faccio di penscienza trovare il cavillo con il quale riuscire a comunicare comunque ecco è una missione impossibile oggi vivo nella finzione immaginaria che questo possa davvero accadere però ci proviamo ci proviamo ce la metto tutta quindi ho deciso di non arrendermi e ho pensato a delle piccole regole che possano appunto aiutarci in questa comunicazione regola prima diciamo fondamentale è mantenere la calma col passare dei giorni infatti e col passare delle discussioni ho notato che non appena la discussione si scalda si perde veramente qualsiasi tipo di appoggio che può diciamo portare la comunicazione ad essere un minimo costruttiva non sarà assolutamente fruttuosa chi ci contraddice ovviamente penserà che noi abbiamo questi benedetti parocchi davanti allo sguardo e che non riusciamo a vedere la verità e ovviamente la discussione diventa più una come dire un avete presente quello che fanno nei college nelle scuole americane che fanno le lezioni di dibattito le sfide di dibattito e non ha diciamo il punto è non è tanto l'oggetto del dibattito quanto fare bene il dibattito quindi aver ragione su un argomento qualsiasi e questo diventa proprio il caso cioè non diventa più se ti fa il vaccino è più probabile che non morirai se non te lo fai invece è più probabile che morirai il punto diventa aver ragione spesso in queste discussioni e ovviamente il primo che perde la pazienza perde anche diciamo la discussione perché scaldarsi fa dire delle cose che non si vorrebbero dire ci fa fare strafalcioni ci fa innervosire quindi quando diciamo la discussione passa da un piano scientifico a un piano di insulto non ha neanche più senso andare avanti si è persa qualunque possibilità di creare un contatto con l'altra persona e questo è quello assolutamente che non vogliamo quindi manteniamo la calma sapete benissimo anche per me quanto questo sia difficile quando si contraddice la scienza perché perché sostanzialmente la mia ragione di vita in questo momento è quello che sarà il mio lavoro e quello che faccio con dipenscienza e quando mi si dice che no le statistiche sono false mi girano no come molto spesso sarà capitato anche a voi e quindi bisogna fare sempre un momento di riflessione contare fino a 10 prima di aprire bocca non sprechiamo la possibilità di creare un contatto con l'altra persona specialmente se ne vale la pena e questo farà parte di un altro dei punti che mi sono segnato regola 2 basta supponenza questa regola come vi dicevo a inizio puntata l'ho creata su me stesso nel senso che mia sorella che è una mia ascoltatrice anche grazie Giulia che mi ascolti sempre che ci dai sempre un grande sostegno mi ha fatto notare che molto spesso quando mi scaldo cioè quando specialmente parlo dei no vax no green pass no eccetera eccetera terapiatisti tendo a essere supponente ed è vero lo faccio sono molto autocritico in questo senso perché quando mi si contraddice una cosa palese una cosa che per me sembra banale mi viene di riflesso di dire vabbè sei un cretino e invece questo non è questo non è perché in questo momento come dire insieme a uno stuolo di cretini veri quindi di terapiatisti quindi di no mask quindi di persone che mettono in discussione tutto solo perché hanno voglia di mettere in discussione quello che è il tema del momento che oggi è il covid ma domani può essere la tav può essere qualsiasi cosa qualsiasi argomento politico può essere messo in discussione e oggi però l'argomento ci mette in difficoltà nel senso che si parla di insomma di salute si parla di vite e quando mi si dice che il covid ammazza come l'influenza no cioè no no e ovviamente è chiaro è normale scaldarsi è normale anche sentirsi in qualche modo superiori è come se noi avessimo capito qualcosa che l'altra persona è talmente stupida da non riuscire a capire cioè vedere le bare che vanno via col camion a Bergamo e dimenticarsene o dire che non esistono addirittura pochi mesi dopo a me sembra allucinante cioè ed è per questo che viene stimolato questo questo andazzo no di sentirsi superiore ed è forse normale ma questo fa molto male alla nostra comunicazione nel senso che questo tono di supponenza con l'altra persona non farà altro che metterla in una situazione di astio immediato e quindi la comunicazione sarà interrotta subito alla prima frase alla prima parola avremo perso assolutamente la possibilità di ragionare con l'altra persona perché noi penseremo ok questo qua è un cretino l'altra persona penserà ok questo qua è un cretino basta chiusa comunicazione non ce n'è più non c'è modo di andare avanti quindi ragazzi oltre a mantenere la calma cerchiamo di ragionare anche se il ragionamento ci sembra veramente inverosimile anche se mi viene detto che le barre non esistevano non importa manteniamo la calma e cerchiamo di trovare il contatto il punto comune dal quale partire perché questo è l'unico modo con il quale riusciremo a creare una discussione non dico logica perché molto spesso non lo è ma quantomeno costruttiva e questa situazione come dicevo prima è proprio il motivo forse per il quale adesso esistono queste due fazioni i vaccinati e i no green pass i vaccinati e i non vaccinati quelli che dicono i vaccinati che dicono ai non vaccinati siete dei coglioni e i non vaccinati che dicono ai vaccinati siete dei coglioni cioè veramente siamo in una situazione kafkiana quindi cerchiamo di invertire questo trend cerchiamo di invertirlo anche grazie alla regola numero 3 e in questa mi impegnerò personalmente perché allora un punto focale di queste discussioni molto spesso sono o le fake news o diciamo delle informazioni che magari non sono fake news ma che comunque non hanno un substrato di come dire di verità nel senso che mi è capitato di sentire per esempio persone che mi dicono io in questo video ho sentito questo medico che dice questa cosa questa cosa era che adesso non mi viene più in mente che in israele ecco in israele sono messi malissimo pur avendo il vaccino avendo fatto il vaccino a più del 95% della popolazione mi ha detto va bene me lo stai dicendo tu io questa cosa non la sapevo mi suonava strano da subito ho mantenuto la calma ho cercato il contatto ho fatto tutte le ve l'assicuro ho fatto tutte le regole che ora vi vi preannuncerò anche anzi che vi dirò anche le successive a quel punto ho detto va bene allora andiamo a prendere le statistiche apro le statistiche morti in israele quel giorno quattro persone capisci che lì le cose sono due o mi dici non credo alla statistica allora lì ripartiamo da zero cerchiamo un'altra ancora scusate sto giocando con una pinzetta probabilmente su twitch lo vedete non fa molto bello ma fa niente come stavo dicendo se non mi credi alla statistica a quel punto devo dire sarà grazie venu per l'abbonamento sette mesi di fila grandissimo continua così se non mi credi la statistica a quel punto devo trovare un altro appiglio sarà molto difficile mantenere la camera ve lo assicuro ma bisogna trovare un altro appiglio se però a quella statistica tu mi credi a quel punto vedrete un click nell'altra persona con cui state comunicando cioè vedrete la difficoltà nel o meglio non la difficoltà neanche il ragionamento quella persona inizierà a ragionare dirà ok se questo era sbagliato allora forse anche quell'altra bufala era una cazzata e quell'altra ancora e allora già la messa in discussione sia da una parte che dall'altra perché oggi io non è che vi sto dicendo che il vaccino è il bene assoluto e che sono sicuro al 100% che non ci saranno danni a lungo termine ne sono abbastanza sicuro però non ne ho la certezza perché del futuro o hai la palla di cristallo oppure lo saprai nel futuro no e io non ho la superbia di dirvi guardate che assolutamente col vaccino non ci saranno problemi fatevelo tutti perché sennò siete degli idioti e insomma chi non farà il vaccino oggi morirà domani non lo so cosa succederà io so soltanto che in questo momento e i dati parlano chiaro il vaccino è la miglior forma di prevenzione che abbiamo e quindi c'è poco da discutere finché non esiste una cura efficace finché non abbiamo modo di liberarci di questa situazione oggi il vaccino è l'unico strumento che abbiamo e i dati parlano molto chiaro non c'è da discutere cioè sono chiarissimi sono evidenti o si mettono in discussione i dati e allora lì non ci posso fare niente come vi ho detto prima però i dati parlano chiarissimo bevo un sorso d'acqua e proseguiamo la puntata quindi vi stavo dicendo che la strada migliore è ragionare ragionare con l'interlocutore trovare il tasto dolente che gli fa mettere in discussione qualcosa anche perché mi sono reso conto che molto spesso queste persone sono persone che hanno un cattivo rapporto con internet nel senso che sono persone o un po' credulone nel senso che quello che leggono su facebook per loro è vero e non vanno neanche a leggere chi ha postato quella roba lì non vanno neanche a domandarsi perché l'ha postato e è anche vero che in questo momento viviamo in una situazione dove internet è difficilmente gestibile nel senso che esiste il leapfake cioè posso mettere la faccia di chi voglio su chi voglio e fargli dire quello che voglio capite bene che è una persona di 70 anni in questo momento è anche difficile spiegargli cos'è il leapfake e quindi se mi vede Conte che ha una riunione di massoni su youtube e lo vede con i suoi occhi che dice no sterminiamoli tutti perché così creiamo la nuova umanità è anche difficile nel senso biasimarlo è una persona che non conosce internet e le sue insidie e quindi non è in grado di discernere cosa è vero e cosa è falso e quindi di conseguenza crederà a tutto quello che vede no e quindi magari un problema può essere quello spiegare che la fonte è importante che che ne so adesso non voglio fare nomi però il sito punto vattelapesca scritto da Giovanni punto rosso non è una fonte attendibile cioè chiunque in questo momento può aprire una pagina facebook chiunque in questo momento può aprire un sito internet e scriverci sostanzialmente quello che vuole non è che siccome è scritto su internet allora è vero e già questo è una grossa problematica di una grossa fetta di persone che oggi non vogliono vaccinarsi e quindi questo è una problematica importante quindi qui per esempio una comunicazione si può instaurare c'è un punto di base si può far capire che cos'è il deep fake si può far capire che cos'è una fake news come fare a riconoscerla capisco che questo sia difficoltoso anche io stesso ogni volta che leggo qualcosa sul covid cerco di andare a fondo di quello che leggo perché poi potrei dirvelo in puntata banalmente quindi non posso dire una vaccata ne va della credibilità del podcast e della mia sostanzialmente cioè già di penscienza non è che sia una roba che fa riderissimo non è la puntata di lol che uno si ascolta per farsi due risate è comunque un tema impegnativo se in più vi dico cazzate capite bene che viene meno tutto il castello quindi è fondamentale per me ed è faticoso andare a cercarsi ogni volta chi lo ha detto perché da dove ha preso la fonte andare a cercare lo studio in alcuni casi ho letto pezzi intere di studi scientifici che molto spesso sono in inglese è un impegno però è un impegno che in questo momento è necessario in questo momento è fondamentale sapere e avere la certezza al cento per cento che quello che si è letto è giusto che magari è giusto in questo momento non sarà giusto in futuro perché verrà smentito ma in questo momento quella è la verità e non possiamo fare a meno di diciamo essere indifferenti rispetto a questa cosa e quindi dar lo stesso peso a quello che abbiamo visto essere vero al cento per cento è quello che invece abbiamo letto su facebook dicendo ma si l'ha detto giovannino il meccanico di lui mi fido perché mi aggiusta bene la macchina e quindi è vero è un impegno è un impegno che dovete prendere quotidianamente non solo voi che mi ascoltate che probabilmente avete già fatto il vaccino perché sono cosciente del fatto che i novax non mi ascoltino però chi lo sa che un domani qualcuno magari in dubbio mi venga ad ascoltare e che si prenda la briga di fare questo questo lavoraccio questo lavoraccio che è fondamentale per lui stesso e come vi dicevo all'inizio tra la schiera dei novax no qua no là insomma degli invasati che pensano che ci stiano controllando che sia il 5G eccetera eccetera c'è anche un'intera schiera di persone che sono in dubbio che banalmente hanno paura e io non mi sento di poterle biasimare queste persone perché anche dal punto di vista ufficiale ci sono state contraddizioni dall'OMS dall'AIFA insomma è stato un momento di caos totale dove anche le istituzioni hanno comunicato male e questa questa comunicazione possiamo dire sbagliata ha fatto sì che sia venuto fuori col tempo questo problema che insieme a tutti quelli che ci mettono il 5G ci siano quelli che sono coscienti del fatto che questo non sia vero che esistano le fake news che magari sono in grado di capire e di leggere un studio scientifico e capirlo insomma ci sono tantissimi medici banalmente che non vogliono vaccinarsi moltissimi per motivi politici adesso qui non voglio impelagarmi in questo discorso perché rischio rischio grosso però insomma sono argomenti un po' scottanti però anche lì si finisce per credere un po' a tutto e specialmente voi persone che siete in grado di capire quello che leggete non fidatevi di nessuno cioè una di queste regole è non fidatevi appunto di nessuno perché fidatevi solo di voi stessi esistono i metodi oggi per informarsi gratuitamente senza avere la notizia di seconda mano di qualcun altro filtrata modificata e magari arricchita di commenti personali che nella scienza valgono zero andate a prendere lo studio prendete gli studi scientifici e leggeteli molti sono in inglese ma non è che siano in lingue uzbeche strane cioè prendete un testo lo leggete molti sono stati anche tradotti o molti sono anche ritrovati anche in italiano informatevi voi con la materia di prima mano non fidatevi mai di nessuno neanche di me perché io sono in live davanti a un computer e potrei sbagliarmi potrei dirmi una castroneria tutto può succedere potrebbe essere domani che esce la notizia che il vaccino provoca degli altri problemi che non conoscevamo e quindi la situazione si ribalterebbe in quel caso e io non posso sapere che cosa succederà quindi cercate di farvi voi stessi la vostra idea perché gli strumenti ci sono è un impegno come dicevo prima ma è un impegno che è necessario in questo momento specialmente se siete in dubbio perché se avete già fatto il vaccino basta c'avete il green pass non c'avete i propri problemi e rifarete il vaccino l'anno prossimo senza problemi diciamo che l'informazione sì è importante ma un po' meno rispetto a chi magari non l'ha ancora fatto perché ha paura no quello è il caso proprio più importante deve essere il più motivato di tutti a informarsi con il materiale di prima mano per capire cosa deve fare perché è lui che è ancora in ballo non che noi non dobbiamo farlo assolutamente quindi insieme a tutte queste regole c'è anche non dare del no vax a questi dubbiosi nel senso che se iniziamo una discussione con ti sei vaccinato? no non mi sono vaccinato perché c'ho paura allora sei un cretino sei un no vax anche qui capite bene che la comunicazione da lì in poi sarà zero cioè non ci sarà assolutamente nessun tipo di discussione costruttiva e soprattutto state non solo alimentando in questo modo quel dualismo questa battaglia tra vaccinati e non vaccinati che li rende sempre più ostili l'uno con l'altro e che quindi interrompe ancora di più la comunicazione e la possibilità di ragionare insieme ma state dando la certezza ulteriore per il motivo due la roba due che vi ho detto prima ovvero la supponenza state innescando quel meccanismo lì cioè state dicendo ok lui è un cretino e lui starà pensando ok questo qua è un cretino e quindi anche lì non ci sarà modo di migliorare questa situazione non ci sarà modo di discutere in maniera costruttiva quindi evitiamo di mettere un'etichetta addosso a persone che magari giustamente sono confuse perché non fanno i medici perché non fanno gli statistici e dopo averne sentite tutti i colori da una parte dall'altra un po' di fake news un po' non fake news un po' di notizie sbagliate un po' di media che oggettivamente ci stanno tartassando i coglioni nel senso che ormai il TG parla solo di covid cioè c'è la guerra a mille chilometri da noi ma non ce ne frega niente però si parla solo ancora di covid perché? perché il covid vende il covid vende vendono i giornali vendono fanno ascolti le radio fanno ascolti i TG il covid è veramente la notizia che l'economia stava aspettando cioè non so più come spiegarvelo state attenti a chi date ascolto e soprattutto forse in questo caso cercate di informarvi più con le vostre mani con internet quello buono quello ufficiale e cercate di lasciare un po' perdere tutte le panzane che vengono dette da chiunque venga invitato in un salotto tv e quindi per forza di cose deve avere credibilità perché è da Barbara D'Urso non è per forza così quindi ultima regola e poi vi abbandono perché sono già 42 minuti che parlo a vanvera è capire se ne vale la pena ve lo dico subito questo è un punto che mi fa male al cuore ma purtroppo mi rendo conto che ci siano delle persone con il quale purtroppo non c'è possibilità di comunicazione se mi viene a dire che il vaccino viene fatto con i feti se mi viene a dire che la terra è piatta se mi viene a dire che ci mettono il 5G se come ho visto in alcuni video di youtube mi fa vedere la foto di una seringa con dentro il 5G mi dispiace dirlo e mi dispiace essere forse a parire supponente anche in questo caso ma vi assicuro non lo sono perché sono dispiaciuto realmente con quella persona non c'è niente da fare cioè non troverete mai un punto comune di comunicazione non troverete mai un punto sul quale stabilire stabilire le basi della comunicazione futura di una discussione proficua provateci provateci sarà altamente frustrante ma non pensate per questo che tutte le persone siano così perché vi assicuro sono tanti indecisi con i quali possiamo discutere che magari si convinceranno oltretutto rendetevi anche conto di del fatto che una persona che oggi non si vuole vaccinare anche se abbiamo una discussione interessante costruttiva dove vengono smentite le fake news dove si vanno a cercare i dati dove si mettono delle basi vere di scienza che portano poi a un ragionamento comune che non per forza deve andare da una parte o dall'altra ma un ragionamento comune non vi dirà mai forse per non so una questione di animosità di non so non mi viene la parola giusta di orgoglio ecco non vi dirà mai ok hai ragione domani vado e prenoto il vaccino non succederà mai ci vuole tempo le questioni le idee vanno metabolizzate ci vorrà del tempo ma chissà che quel semino che avete messo non produrrà qualcosa di buono e quindi che in futuro avrete aiutato un'altra persona quindi ragazzi questa puntata è terminata io spero che vi sia piaciuta spero che di penscienza andrà molto bene anche quest'anno come è andato l'anno scorso anzi meglio spero che prendiate questa puntata con molta attenzione perché è veramente veramente fondamentale anche se può non sembrarlo anche se la prossima puntata penso che farò un episodio dove smentiremo le più grosse bufale che era uno dei punti delle regoline di zap e spero soprattutto che voi come dei novelli anzi non lo dico spero tanto che voi teniate a mente queste regole in sostanza e che siate in grado di far sì che la mia voce non sia una persona ma sia dieci persone che parlano ad altre cento persone che parlano ad altre mille persone insomma che sia che riusciamo ad innescare una catena di positività in questo senso e che questo faccia bene alla nostra comunità perché ci viviamo dentro e quindi semplicemente dire quello è un cretino ed è perso dobbiamo abbandonarlo non ci porterà da nessuna parte quindi io spero che questa puntata vi sia piaciuta e ci sentiamo martedì prossimo con una nuova puntata di pen scienza come sempre lasciate un commento mettete un like se siete su youtube iscrivetevi se siete su spotify iscrivetevi se siete su apple podcast lasciate una fantastica recensione e soprattutto venite a seguirci su instagram perché quest'anno abbiamo il grosso obiettivo di arrivare a 10.000 so che è un obiettivo quasi irraggiungibile ma con il vostro aiuto penso che potremmo farcela quindi questa volta vi saluto davvero e ci sentiamo nel prossimo episodio di ripenscienza ciao oh bene ragazzi vi saluto anche su twitch ci sentiamo martedì prossimo fatemi sapere come è stata la puntata se vi è piaciuta se non vi è piaciuta se bla 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 come sempre e ci sentiamo sul gruppo telegram e su tutti i nostri canali di comunicazione ciao ragazzi grazie a tutti